Ciao amici di Radio Stuni, benvenuti in questa nuova puntata di Raccontami di te. Innanzitutto vi voglio ringraziare per averci seguito le scorse puntate e spero continuerete a farlo. Oggi sono qui con due ragazze, Giulia e Aurora, il cui rapporto di amicizia è quello che tutti sogniamo. Infatti loro si conoscono da sempre, ma purtroppo quest'anno si sono dovute separare per via del passaggio dalla scuola media alla scuola superiore. Innanzitutto vi voglio chiedere, com'è nata la vostra amicizia? Io sinceramente non ricordo. Allora, visto che Giulia non se la ricorda, ci penso io. La nostra amicizia nasce verso i tre anni circa, quando iniziamo appunto l'asilo, la scuola materna. E lì diciamo che non c'era molta simpatia tra noi due, perché non socializzavamo molto tra noi due. Poi però, verso i sei anni, quando appunto abbiamo iniziato il nostro percorso alle scuole elementari, è cambiato. E lì ci siamo ritrovate nella stessa classe, dove c'era anche Martina. Già dal primo giorno siamo diventate dal nulla inseparabili. E appunto da lì poi è nato il nostro rapporto vero e proprio. Cosa pensate vi leghi in questo momento, ma anche prima, qualche anno fa? La fiducia soprattutto. Ciò che lega praticamente ogni rapporto di amicizia, che dura anche nel tempo. E voi vi siete subito identificate in questo rapporto, proprio tra voi due? Oppure hai voluto un po' di tempo? Secondo me non subito, anche dal fatto che all'asilo ci eravamo a vicenda. Però, passando delle esperienze sia belle che brutte, abbiamo legato molto sul nostro rapporto. E avresti mai immaginato di arrivare fino a qui, cioè dopo tutti questi anni, ancora tanto inseparabili? Io non l'avrei mai immaginato, sinceramente. No, io invece sì, perché sentivo già da subito che c'era qualcosa di particolare, diciamo, tra noi due, che ci avrebbe legato sin da subito. Poi, appunto, essere qui è proprio la conferma. E invece nella scuola media, dalla prima media alla terza media, con la pandemia, è cambiato qualcosa? Cioè vi ha fatto capire qualcosa del vostro rapporto, l'ha migliorato? Io direi che ci sono stati dei cambiamenti radicali, del nostro rapporto soprattutto. Grazie alla pandemia stavamo 24 ore su 24 insieme, in videochiamata, quindi non ci perdevamo un attimo. Facevamo i compiti insieme, mangevamo insieme, soprattutto quando abbiamo avuto il Covid. È stato un momento bruttissimo, anche se asintomatiche. Sì, infatti, proprio verso ottobre 2020, siamo appunto, cioè appunto, nel periodo appunto in cui eravamo positive, abbiamo stretto sempre di più sia noi che con altre nostre amiche, a tal punto da diventare ancora più inseparabili di prima. È stato un periodo comunque brutto perché abbiamo attraversato delle esperienze anche qui insieme, ma è la prima volta che eravamo isolate dal mondo e non sapevamo come comportarci di fronte a questo. E invece una volta arrivati in terza media vi siete sentite magari cresciute, maturate, diciamo tutto quello che i ragazzi che crescono, diciamo, pensano di avere, diciamo, no? E voi invece cosa avete sentito, sia dal punto di vista della vostra amicizia che dal punto di vista personale? Allora, già la scelta della scuola superiore è stata comunque difficile perché non volevamo separarci, volevamo andare in classe insieme, però avevamo idee diverse sul nostro percorso poi futuro. E in terza media comunque io credo di essere maturata molto e anche il rapporto con le altre persone, come mi esponevo con le altre persone, è cambiato molto. Sì, sicuramente, personalmente, ma anche sul nostro rapporto di amicizia appunto, ho sentito proprio una crescita, diciamo, perché personalmente sono sicuramente maturata rispetto alla prima media, ma anche agli anni precedenti, mentre nel nostro rapporto sento che si è stretto sempre di più, nonostante appunto quest'anno ci siamo dovute separare, ma nonostante ciò riusciamo comunque a... Il nostro rapporto alla fine è sempre uguale a prima, anzi forse è più forte di prima, perché la distanza ci ha avvicinato ancora di più. Quindi voi pensate che questa separazione vi aiuti a, diciamo, a migliorare la vostra amicizia? Sì, sicuramente, anche perché, diciamo, una caratteristica della nostra amicizia è che da quando siamo appunto piccole siamo sempre state diverse, ma uguali allo stesso tempo, perché magari avevamo idee diverse, però poi pensavamo la stessa cosa. È sempre stato, diciamo, un rapporto contrastante, ecco, da questo punto di vista. Sì, col tempo siamo diventate anche telepatiche, quindi noi riusciamo a pensare le stesse cose e anche a dirle. E invece vi è capitato qualche volta di essere magari in disaccordo su qualcosa, di un essere, magari, non avere la stessa idea? Molte volte, soprattutto all'inizio del nostro rapporto, magari anche per piccole cose litigavamo per praticamente niente, ma poi alla fine sono quelle piccole cose che ci hanno portato a concretizzare il nostro rapporto, a renderlo vero, puro. Invece, per quanto riguarda la scuola superiore, è come ve la immaginavate? Vi trovate a vostro agio con i compagni, i professori? Allora, io personalmente era come me lo aspettavo, perché avendo scelto un liceo scientifico, cioè, me lo aspettavo proprio così, perché magari molte persone pensano sia pesante, diciamo, ma per me non è che non lo è, perché comunque richiede diverse sacrifici, diciamo, ma, cioè, avendo fatto questa scelta, sapevo a cosa andavo incontro e quindi ho scelto, appunto, di intraprenderlo e spero di riuscire a portarlo a termine. Io invece, sinceramente, non mi aspettavo niente di tutto ciò che alla fine ho incontrato, perché non per la scelta di per sé dello scientifico, ma proprio del liceo. È stato, per me, tutto diverso, anche le amicizie, fare nuove amicizie, rapportarsi con nuovi professori, è stato, non difficile, ma comunque un ostacolo. E pensate che questo vi aiuti a crescere, sia incontrare nuove persone, relazionarsi con queste nuove persone che magari possono avere un'idea diversa rispetto alla vostra, o anche con i nuovi professori, che ovviamente non si parla più di professori delle medie, delle scuole medie, ma, diciamo, un rapporto magari più avanzato, non più di fiducia concreta, diciamo. Esatto, secondo me le amicizie si hanno molto cambiato anche nel nostro essere, perché apprendiamo dai diversi percorsi che intraprendiamo con i nostri diversi amici. Ovviamente sia in classe sua che in classe mia, ci sono molte persone con cui siamo riusciti a fare amicizia e le frequentiamo anche a vicenda. Sì, sicuramente, e appunto facendo amicizia con altre persone, ho capito che non è importante, diciamo, l'ambiente a cui si è legati, appunto, ma spaziando con magari altre persone, appunto, altri professori in questo caso, si riesce comunque ad adattarsi a nuovi ambienti e molte altre cose. Ora, dopo queste vostre parole, mi sento obbligata a chiedervi, cos'è per voi l'amicizia? L'amicizia, secondo me, si basa totalmente sulla fiducia. Poi dipende di, diciamo che due persone si possono completare a vicenda in poco tempo o metterci di più di tempo. Allora, per me, allora, oltre che la fiducia, che sicuramente non deve mai mancare, ma, diciamo, completarsi a vicenda, come dice Giulia, ma soprattutto, diciamo, è difficile da spiegare, proprio perché il nostro rapporto, come dicevo prima, è contrastante, perché, appunto, sicuramente nasciamo, diciamo, cioè il nostro rapporto, appunto, nasce da un qualcosa di cui non ci saremmo mai aspettate, proprio perché non ci sopportavamo all'inizio. Si è nato proprio dal nulla. E quindi è proprio bello questa cosa che, appunto, era inaspettata e invece poi si è rivelata molto... È come se fossimo cresciuti insieme, come delle sorelle, alla fine. Invece voi siete, oggi, diciamo, in questi anni, si stanno sviluppando le amicizie sui social. Voi siete contrari a quali sono, secondo voi, i vantaggi e gli svantaggi dei social? Perché, ovviamente, questo può portare sia a delle cose positive che a delle cose negative. Allora, i vantaggi, come ne ho già parlato anche prima con la pandemia, sono le videochiamate, il potersi messaggiare continuamente e il poter stare sempre insieme, ma anche coltivare delle amicizie da zero sui social può essere un vantaggio o come può essere uno svantaggio, come poi vediamo in telegiornale tutto ciò che succede alla fine. Allora, secondo me, le amicizie sui social sono un pro. Cioè, io sono pro alle amicizie sui social. Personalmente, ho un'amica, anzi più di una, che ho conosciuto, appunto, tramite i social. Sicuramente bisogna stare molto attenti. Infatti, ho, diciamo, verificato, appunto, più volte attentamente di fronte a chi mi trovassi. E con queste persone, anzi, tuttora mi ci sento. E ci siamo anche viste dal vivo. E quindi per me è un ottimo metodo, anche per fare amicizie, appunto, ma soprattutto per spaziare, conoscere nuove persone, magari scambiarsi pensieri e molto altro. E io credo che ci sia anche molta differenza tra un rapporto fisico che non tramite messaggi. Sì, magari, ne so, durante l'amicizia nata attraverso i social, non c'è la fiducia che si può, diciamo, instaurare tra due persone dal vivo. Certo. E voi che usate i social? Li usate solo per, magari, confrontarvi, fare amicizie, o anche per passare il tempo? Ma anche per passare il tempo, anche arricchirci, perché i social, tutti la vedono come qualcosa di negativo, ma hanno anche aspetti positivi. Sì, secondo me, è appunto un metodo per svagarsi, magari, in un momento di noia o quando non si sa che fare. Però, comunque, diciamo, non bisogna crearne quasi una dipendenza, perché non porta poi a notizie positive. Esattamente. L'altro giorno stavo, appunto, scorrendo su Instagram e ho visto un post dove parlava di un tipo di ansia sociale chiamato Fumo. È un tipo di ansia che si sviluppa controllando sempre i social, controllando sempre la vita degli altri. ed è comunque un'ansia che non vedi svilupparsi subito, nel senso che si sviluppa col tempo e anche non te ne accorgi. E invece, per quanto riguarda, appunto, l'ansia sociale, voi pensate che potreste, magari, avere un po' di ansia nell'incontrare le persone, nel relazionarvi con loro? Io ho ansia perennemente, qualunque cosa io faccia, quindi, per me è un'abitudine alla fine. Però avere ansia da una parte è una cosa positiva perché ti porta a migliorarti. Invece, dall'altra parte, se hai anche troppa ansia, potrebbe portare a conseguenze negative. Sì, tu, allora? Io, personalmente, sono una persona molto ansiosa. Alcune volte, mi porta anche ad avere, appunto, conseguenze negative, come, appunto, magari, piangere, oppure agitarmi per nulla. Però, appunto, sono d'accordo perché, molte volte, ti porta a fare di meglio, appunto, per migliorarti, ma soprattutto, per poter, appunto, fare di meglio. Condividiamo anche l'ansia, praticamente. E avete mai pensato di cambiare questo aspetto del vostro carattere, che non è una cosa negativa, anzi, però magari qualcuno la può intendere come un aspetto negativo della propria persona? Io ho sempre provato a cambiarmi, sin da piccola, perché sono stata sempre una persona abbastanza insicura, non propensa alle relazioni con gli altri. E ho sempre provato a cambiarmi, ma poi, col tempo, anche e soprattutto nel periodo delle medie, in cui eravamo chiusi in casa nella maggior parte del tempo, ho capito di dovermi accettare così come sono. Allora, io sono dell'idea invece che l'ansia, appunto, fa parte di me, purtroppo non ci posso fare nulla, perché, cioè, è una parte di me che non riesco a cambiare, ci ho provato delle volte, ma crescendo, non aumenta, diciamo, però, ecco. Vabbè, però, devi pensare anche che, appunto, come abbiamo detto, non è un aspetto negativo di te, anzi, si può trasformare in una cosa positiva, infatti, magari, magari, cioè, non avere tanta, essere troppo, come dire, aperti alle relazioni, può anche portare a delle cose negative e non sapere ciò a cui si va incontro. Appunto, l'ansia, secondo me, però, frena anche molto i rapporti, perché, magari, tu puoi avere ansia di ciò che dici, di ciò che fai, se può portare conseguenze negative nel rapporto con una persona, ecco, perché, il nostro rapporto è stato spontaneo, sì. Possiamo dire senza maschere, e infatti, molte volte, per sentirci accettati dagli altri, magari, indossiamo una maschera, e voi cosa ne pensate? Cioè, secondo me, ognuno dovrebbe essere libero di esprimersi e di essere colui che è, alla fine. Alla fine, all'inizio di ogni rapporto, ognuno indossa una maschera, perché non sa com'è l'altra persona, com'è, se la può aspettare, quindi, solo dopo il tempo, le maschere iniziano man mano a a sparire. Sì. Comunque, credo che, ormai, tra di noi ci siano più maschere, anche perché capitano quei momenti in cui decidiamo di confessarci, non lo so, tutte le cose che non abbiamo detto, la verità, così che il rapporto diventa puro e senza ostacoli. se, secondo me, appunto, ognuno di noi ha delle maschere, è come se, magari, in base alla persona che si ritrova davanti, scegliesse quale di essi, appunto, utilizzare per mostrarsi al meglio davanti alle persone. Ma, secondo me, cioè, magari è giusto che una persona debba, magari, adattarsi all'ambiente in cui si ritrova, ovvio, però mostrare da una parte quello che è veramente, perché magari mostrandosi in un modo, poi conoscendo meglio quella persona, potrebbe, quindi, creare ostacoli nel proprio rapporto e quindi, mentre nel nostro rapporto, essendo, appunto, nato quando avevamo circa, appunto, tre anni, quattro, non, essendo troppo piccole, ecco, non avevamo neanche la capacità di creare magari delle maschere e questo è un vantaggio. Ma in un rapporto di amicizia non sempre le maschere svaniscono facilmente, anzi, ci vuole del tempo per l'appunto. È vero, molte volte pur di essere amica o amico con una persona, teniamo queste maschere fin quando non diventano parte del nostro carattere, quindi cambiamo radicalmente per via di un rapporto di amicizia. E voi pensate che la pandemia del Covid abbia influito su, diciamo, sulla capacità delle persone di cambiare il proprio umore, il proprio carattere, la propria personalità? Io penso proprio di sì. Credo che ci siano sia aspetti positivi anche qui che negativi. Io vedo in qualunque cosa aspetti positivi e negativi. Ovviamente, appunto, con le videochiamate, come avevo fatto l'esempio prima, siamo sempre state insieme, quindi le maschere prima o poi spariscono. Infatti, secondo me, questo è stato il punto forte del nostro rapporto, la pandemia. invece, d'altra parte, molte persone potrebbero tendersi all'isolamento, quindi a diventare asociali o soffrire di depressione, che sono comunque problematiche da non da tener conto. Invece, tu, Aurora, cosa ne pensi? Allora, secondo me, appunto, durante il periodo che va appunto dal 2020, ma anche fino ad adesso perché ci sono ancora casi di positività, ognuno di noi ha magari trovato quelle caratteristiche di cui non aveva, alle quali non aveva mai fatto caso. E questo, questo è appunto un aspetto notevole di cui appunto tenere conto perché ha fatto tanto, personalmente a me ha fatto tanto questo periodo, poiché appunto poi ci ritroviamo anche nel periodo dell'adolescenza, quindi sicuramente sarebbe appunto accaduto un cambiamento a noi, ma con il lockdown, ecco, in cui appunto ci siamo ritrovati chiusi, ma non solo nelle case, chiusi quasi in noi stessi, provando poi a fare appunto videochiamate, messaggiarci, tra di noi ovvio, ci siamo appunto legate sempre di più e nonostante appunto non potessimo vederci, non potessimo appunto fare tutto ciò che facevamo prima perché stavamo sempre insieme praticamente. Diciamo si crea un rapporto di apertura soprattutto tra due persone. Purtroppo oggi è anche difficile fare amicizia o comunque conoscenza con altre persone. Proprio perché magari anche per quanto riguarda sempre l'amicizia sui social, molti sui social dietro uno schermo sono una persona, invece dal vivo poi ti rendi conto che il carattere cambia totalmente proprio perché o indossano una maschera o non vogliono appunto essere ciò che realmente sono. E invece per quanto riguarda l'adolescenza, noi ragazzi concentrati nella nostra città, voi diciamo dove concentrate le vostre uscite, dove vi incontrate maggiormente? Beh, credo che usciamo alla fine più o meno in tutto Stuni, diciamo ci sono alcuni punti di aggregazione, per esempio lo stradone o comunque vedersi anche per mangiare una pizza semplicemente. E voi pensate che ci dovrebbe essere degli spazi per comunicare anche con altri ragazzi oppure creare dei rapporti più forti diciamo tra noi? Sì, infatti secondo noi un punto di aggregazione sarebbe perfetto per soprattutto noi adolescenti che siamo alla fine la prima generazione che utilizza i social e quindi si chiude più in se stessi. Si, si chiude più in se stessi. secondo me appunto ci dovrebbero essere punti diciamo di ritrovo tra noi ragazzi per appunto anche scambiarsi delle idee dei pensieri anche per fare nuove conoscenze perché non si finisce mai di conoscere persone. E anche sviluppano delle attività magari con cui possiamo insieme un esempio è creare magari sale cinema sale ristoranti sale studio per poter stare in un ambiente comune e confrontare anche tutte le idee che abbiamo. Invece avete mai pensato al vostro futuro se volete rimanere in Austuni nella nostra città oppure andare via da qui ma anche addirittura dall'Italia? Vabbè dall'Italia non credo perché sarei troppo lontana dalla mia patria perché io tengo molto ad Austuni perché è la mia città comunque Natale e quindi non credo di andare all'estero o al massimo per andare a studiare e comunque ritornerei sempre qui anche andando poi a studiare veramente all'estero tornerò qui a lavorare a rendere Austuni sempre la città migliore a migliorarla sempre. Allora sicuramente anch'io cioè Austuni per me è la mia città è il posto dove sono nata e io ci sono molto legata nonostante magari alcune persone non la pensino così a me non interessa perché appunto ci sono così legata che non riuscirei ad abbandonarla sicuramente per studiare magari l'università o appunto approfondire i miei studi sicuramente uscire da Austuni ma anche andando entro la Puglia appunto mi piacerebbe perché sono legata anche molto alla Puglia e niente grazie per averci seguiti in questa puntata e ora arriviamo ai saluti chi vorreste salutare? i miei genitori e tutti i miei amici che mi hanno aiutato in questo percorso della mia adolescenza sì sicuramente anch'io ma tutte tutte le persone che hanno contribuito a formarmi appunto a formare la persona che oggi sono va bene grazie per averci seguito e ci vediamo sabato prossimo ciao 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 A presto. A presto.